Figura anche l'ex presidente della regione Campania, attualmente consigliere regionale Stefano Caldoro, tra i destinatari dei 13 inviti a dedurre emessi dalla procura regionale per la Campania della Corte dei Conti, nell'ambito di un'indagine dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. Gli accertamenti riguardano presunte irregolarità tra il 2013 e il 2018 nella gestione del servizio idrico integrato in 76 comuni delle province di Napoli e Salerno che avrebbero provocato un danno errariale da 90 milioni di euro. Nonostante molteplici incontri, atti e delibere che stabilivano modalità e tempistica del trasferimento delle opere, sottolinea una nota diffusa dal Comando Provinciale di Napoli della Guardia di Finanza, la regione Campania e la società concessionaria non hanno mai concretizzato quanto concordato, ad eccezione del trasferimento di pochissimi impianti. Il mancato trasferimento in concessione d'uso delle opere regionali al concessionario, da un lato, non ha permesso l'efficientamento del servizio idrico integrato, dall'altro ne ha fatto indebitamente e dannosamente ricadere i costi di gestione sul bilancio regionale, gravando sulla fiscalità diffusa regionale e non sulla fiscalità diretta. In sostanza, la regione Campania si è accollata nel tempo costi che avrebbero potuto trovare copertura nella tariffa da applicare all'utenza, con gravi ripercussioni sulle finanze regionali.